ciao a tutti sono simone di simone and simone e oggi troviamo insieme questo gioco che mi è stato dato quindi grazie grazie mille sviluppatori che si chiama teeny tiny town piccola tenera cittadina non so che gioco sia però mi sembra molto molto tenero e coccoloso quindi selezioniamo una mappa piano è vero di idee spero che ci spiegherà come si gioca il tuo compito è costruire la città più grande possibile su questi terreni trascina l'elemento evidenziata sulla tessera vuota o fai clic su una tessera vuota per posizionarlo sviluppa la tua città collegando 3 o più oggetti adiacenti insieme per creare un oggetto più prezioso è uno di quei classici giochi tipo 2048 ve lo ricordate che andava di moda un po di tempo fa quindi tipo se faccio ok ok ho cliccato la pecore ed è diventato va bene quindi se clicco questo ok questo è diventato un albero non sto capendo niente va bene ah ok ci dice la prossima tipo il tetris ci dice il prossimo pippolo quale sarà ok ok e poi ci da un albero non sto capendo ci da un campo di un accampamento adesso ci da un albero perché non mi sembra che stia dando le cose che sto mettendo ha messo l'accampamento quindi adesso da un albero o un cespuglio un albero ok mi devo ricordare cosa cosa dava quindi non ci sono le pecore se ci clicchiamo qua ce li fa unire ok io rimettiamo un albero cespuglio un altro cespuglio uniamo i cespugli ci abbiamo gli alberi un po' lontani eh questo non so cosa c'è un cespuglio ok ci ha dato un albero ah quello che ci fa vedere l'anteprima di cosa di cosa metteremo però cespuglio qua mettere io che è perfetto questo qua perfetto abbiamo ottenuto il la legna adesso abbiamo l'albero lo mettiamo qua il cespuglio mettere qua che non dà fastidio ok poi ci abbiamo un altro cespuglio lo mettere qua per adesso l'albero lo mettere qua ok cespuglio qui cespuglio qui almeno qui o le roccia la roccia qui la roccia non si è unita forse perché questa è un po' più di ossa sembravano gli anni tutte uguali cespuglio qua cespuglio qua cespuglio qua cespuglio qua cespuglio qua tutti cespugli mi stai dando non c'ho più spazio dove mettere questi cespugli ok abbiamo finito così va bene va bene però abbiamo capito come funziona quindi proviamo a fare un'altra partita quindi iniziamo con dei cespugli andiamo a metterli qua verso il centro ok andiamo a mettere qua i cespugli abbiamo tre spazi liberi qui sotto quindi fare uno due e questo lo mettere qua cespuglio qui perfetto cespuglio abbiamo spazio qui questo lo mettiamo qui cespuglio abbiamo spazio qui in mezzo ok perfetto e ancora cespuglio continuano a metterli qua ma però ci da un altro albero anche dopo quindi possiamo fare così ok ah ho fatto una cavolata questi come ne unisco adesso mannaggia così perfetto questi pezzi di legna qua sono difficili da unire allora proviamo a fare così un due e tre un due e tre un due e tre ok questo già potrebbe essere utile ah ma c'è tutti gli alberi distanti uno due tre eh grazie grazie signor giovanni eh che ce lo mette qua va bene termine da gioco riproviamo è un gioco un po' antistress e un po' molto stress allora metterai no ma ho sbagliato torno indietro ok annulla ok non so cosa annullato però allora la prima cosa che abbiamo è il cespuglio e lo mettiamo qui poi c'è l'albero e lo mettiamo qui altro albero qui cespuglio cespuglio megacoso megacoso e qua sono rimasti solo due spazi potrebbe essere un problema cespuglio 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 ok adesso mi ha altri spazi un due e tre poi un due e tre un due e l'albero adesso lo mettiamo qua così si è anche spostato questo va qua uh la roccia due e tre eh qua siamo un po' fagati no annulla ma annulla solo l'ultima mossa non tutto ma perchè annulla tutto cosa fa questo ah telepotenzia uno vabbè l'ha messo lì ma niente uno due vabbè uno due tre ok il problema è che non possiamo decidere dove va a finire l'ultimo quello che si unisce non capiamo dove va adesso bisogna spostare sta legna vicino ad un'altra legna ma non è così facile ehm due due ok ok Se conviene così Abbiamo della legna abbastanza vicina Delle occe ok Oh Abbiamo raggiato 9 case Non lo so Voglio i soldi Dammi dei soldi che non so cosa servono 1, 2 e 3 1, oh Ho fatto la casa Garde 2 3 Ci sto prendendo la mano ma è tosta 1, 2 E ci abbiamo Questo già fatto Questo già fatto Questo va qua Questo Questo va qua Che tanto è bloccato Questo va qua Ok Ok Allora Pezzi di legna Qui Abbiamo un'altra casa Le pietre però C'hanno un altro Tectric Chissà cosa diventano Quando le uniamo Allora Allora Uh Non so più dove mettere Ci spuglietti Iniziano a diventare un problema Ok Queste sono qua Le piccole Si uniscono Queste si uniscono Facciamo così Questo così Abbiamo un'altra casa Mamma mia Se è tosta Questo qui Questo qui Ottimo Non c'ho più posti da fare Tra scespugli Quindi li metterò Dove ci sono i buchi Legna Conviene Metterla Dove riesco a mettere Tra di fila di legna Da nessuna parte Quindi farsi metterla qui Bene Bella Questa legna Messa al posto giusto Va bene Va bene Giusto per farvi vedere Com'è questo gioco Spero che vi sia piaciuto Lo trovate su steam E Niente Al prossimo video È random Grazie per avermi seguito Ciao ciao